ciao amici di giallo oggi uno spaghettone quadrato con zucchine e salmone taglio le zucchine romanesche a dadini più o meno regolari stessa cosa con il salmone che condisco con olio e pepe aglio olio maggiorana salto le zucchine in padella mettendo subito sale così mi aiuta a tirare fuori un po di acqua per la cottura ne tolgo una parte quando ancora sono croccanti questa parte la unirò al salmone crudo con le altre realizzo una crema salto in padella per gli ultimi quattro minuti di cottura la pasta sarà cremosissima in piatto ed unisco i dadini di salmone crudo il salmone è stato precedentemente abbattuto un piatto estivo fresco e buonissimo